Salve, sì, sì, mi faccio guardare, sì, ci ho chiamati stamattina, ok, prego, è la prima volta qui, no, non c'è problema, allora mi dica, lei è qui per, ok, mi faccio vedere un po', allora qui lei ha i capelli, sì, ce li ho più meno pochi come me, ok, e li vorrebbe quindi tagliare fin qui, ok, quindi metto nel collo, sì, il colore rimane lo stesso, ok, ok, ma già con me sembra molto molto bello, sì, ok, quindi ok, diciamo che non è definibile una spuntatina, ma neanche un taglio drastico, va bene? No, non c'è problema, non c'è problema assolutamente, allora, mi avvicino un attimo per vedere che tipo di capelli ha, ok, per capire che prodotti devo usare, va bene, ok, ok, quindi ha i capelli che comunque tendenti al grasso, ok, le radici, sì, sì, mi sembrano, tendono ad essere un po' ingestibili, ok, le volevo dire una seconda cosa, e per caso lei usa prodotti biologici o non fa differenza, ok, no, guardi, se vuole uso, anzi, io, io, non c'è bisogno, c'è bisogno anche di portarli, le mostro quelli che voglio usare io, ok, le mostro, poi deciderà lei, va bene, allora, come shampoo, io userei questo, noi qui vendiamo anche, ma usiamo, i prodotti della Mater Natura, che sono fatti in Italia, e sono un marchio ecopio, non l'avevo mai sentito, e loro, nel rispetto dell'ambiente e della pelle, i prodotti di Mater Natura non contengono parabeni, paraffino, oli minerali, SLSS, LAS e TEA, sono nickel tested e 100% vidi in Italia, ok, e questo è uno shampoo al cisto per capelli grassi, purtroppo, non ha il problema della purtroppo, mi sembra, però, ha i capelli tendenti al grasso, ok, sentire il profumo, buonissimo, molto dolce, veramente buono, no, non è eccessivo, molto buono, sì, anche vegano, se ne interessa, ok, poi, come balsamo, invece, andrei a usare questo, sempre la stessa marca, sì, 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 e questo è un balsamo a capelli, almenilotto, distrecante e nutriente, guardi, abbiamo disponibili anche le maschere di questa marca, però, le devo dire la verità, le sue punti non mi sembrano così secche, così, messe male da dover usare la maschera, dopo il schermo veramente di appesantire, si fida, e quindi sì, lo stesso discorso vale anche per il balsamo, quindi, fatte in Italia, nickel tested, allora, e vegano, ok, allora, poi, allora, per gestire un po' di più il crespo dei suoi capelli, io dopo, quando i suoi capelli stanno asciutti, andrò a usare questo fluido lucidante, anticrespo, capelli con equiseto, molto buono, io lo uso spessissimo questo, è diutile quando siete asciugati i capelli, così, però, vedete che ha veramente quel crespo, quel crespo, quel crespo, magari non ne va neanche di stirarli, oppure comunque le rimane il crespo, perché, adesso, effettivamente, c'è molta, molta umidità, sì, questo nasa veramente pochissimo, dopo le faccio vedere, e atti, subito ho risultato stupendo, le faccio sentire l'odore, questo è molto molto dolce, molto molto dolce, non le ho fatto sentire l'odore del balsame, questo è molto delicato, esatto, sono buonissimi questi odori, allora, dopo, mi diceva, lei vuole anche una piega, no, se deve andare dopo in piscina, va bene così, perché non poffia niente, ok, va bene, facciamo solo il taglio per il braccio, un po' di questi capelli che ci fanno un caldo, anche io mi devo tagliare, anch'io, 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 bene, allora, adesso ci accomodiamo al lavabo, va bene, ok, ok, adesso cominciamo con un bel massaggio la testa rilassante, appoggio pure la testa, ok, ecco qui, конечно, ecco qui è molto meno prima, uno democratico, è un progetto, Grazie. Ecco qui, ecco qui. Allora, adesso andiamo a lavare i capelli e vado a usare lo shampoo che le ho appena mostrato, ok? Mi dica se per caso per lei è troppo calda, troppo fredda, ok? Può andar bene? Ok. Aligh, 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 a mani, a mani, a due ore, a lunga, con acquaraggio, a mani, a mani e una minata notava, a mani che trovare un momento in quanto ogni cazza? Aligh, aligh, a mani, a mani e un pezzato, ma a mani e un pezzato, a mani pute, a mani e un pezzato che fa a mano, ok? E un pezzato! andiamo a insamonare ecco qui il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 ok, sciocca, sciocca un po Grazie a tutti. Ecco qui, si può essere un prodotto comunque bio, ma schiuma, si anche mi preferisco perché oltre ad avere un maggior potere di detersione hanno anche più facilità nel capire se effettivamente sta pulendo o non ha una certa zona, quindi io le preferisco sempre, trovo che siano meglio anche per i miei clienti, ok, passiamo al balsamo. Ecco qui. Sì, sì, solo sulle punte. Solo, 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 solo le punte. E rishakura. Sì. 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 Okay. Sì. Sì. Gli metto. Sì. Sì. Sulla testa Allora, eccoci qui Ritolgo Giochi qui in testa Ok È rilassata Massaggio la testa Bene, sono contenta Sono molto contenta Ok Quindi adesso passiamo subito A pettinarli un pochino E dopo li tagliamo Va bene Ok Vado a usare prima questo pettine E vado Vado a usare i capelli Ok Ecco qui No, no, no Vedete come questo balsamo Anche con pochissima posa L'abbiamo tenuto giusto un minuto Ha permesso veramente Di togliere tutti 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 i nodi Ma tutti È incredibile, lo so Guardi col balsamo Questo balsamo è stato veramente una scoperta incredibile Ecco qua Ecco qui vedete come sono venuti? senza nodi qualche nodo c'è sempre però i nodi vengono proprio bene adesso leggo gentilmente di dirmi dove porta la riga ok allora benissimo siamo pronti al taglio? no non si agiti non succede niente ha una foto da farmi vedere così siamo sicuri ok va bene va bene quello che ho in mente perfetto allora andiamo al taglio ok ecco qui cominciamo a tagliare un po' ecco qui si 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 con calma ok 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Siamo sicuri? Ok. 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 eccoci qui ok allora guardiamo che siano pari ok guardiamo perfetto le dona veramente tanto veramente tantissimo splendido ok andiamo ad asciugarli grazie 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 ok vediamo una sistemata finale no vabbè comunque gliene ho fonati per bene quindi comunque sono molto belli però insomma non andiamo a sprecare una piega intera se adesso deve scappare in piscina insomma non ha molto senso si capisce si capisce e non c'è problema ok allora adesso mi le mando a mettere giusto poco 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 di questo fluido anticrespo giusto qui giusto qui per farle vedere un po' ok ne serve veramente poco prima sulle mani e poi sui capelli in questo modo ecco qui è sufficiente e questo le farà anche durare diciamo non la piega però un po' l'afonata un po' più a lungo certo allora adesso quando va quando va alla cassa puoi chiedere anche questi prodotti adesso lo dico io alla mia collega che che prodotti ho usato ok così lei passa di shampoo balsamo fluido spray così e lei saprà di cosa di cosa sta parlando certo lei può rimanere qui un attimo a rilassarsi a vedersi questa sensazione di benessere dopo un trattamento al parrucchiere io spero veramente sia trovata bene da noi allora l'aspetto magari è per una tinta un colore estivo oppure per un'altra acconciatura o per una semplice piega perfetto grazie a lei buona giornata grazie a lei grazie a lei grazie a lei grazie a lei grazie a lei